Stiamo per entrare nel tubo sider. Qui è conservato il ghiaccio di migliaia e migliaia di anni fa. Edica è in strato Carode di 800.000 anni fa e ora andiamo a vedere. Tutto il soffitto è ricoperto di queste specie strattiti. Non c'è liceo? Non c'è liceo. Non c'è liceo. Non c'è liceo. Ci sono blocchi dall'interno. E abbiamo messo il stesso gradiente di temperatura qui dall'interno. Ma l'experimenta è semplificata. Per esempio, non c'è liceo di atmosfera. Quindi non otteniamo isotopi dell'atmosfera. Ciò che abbiamo messo il sole in un foglio. E non abbiamo radiazione. Quindi è semplificato. weakerFA e conquistare la temperatura del funzionino. Potrebbe essere molto divertido, 향o soakedare, mezzano io, cartucho un internazionale. Tritta, понятно, sei, Grazie a tutti.